Ancora positivi a Caposele, il bollettino dell'Asla ha comunicato altri 24 contagiati, ora sono in tutto 60 i casi positivi. I nuovi contagiati appartengono ai nuclei familiari che erano già in isolamento in seguito al focolaio accertato nei giorni scorsi. Tra i positivi ci sono numerosi bambini, a conferma che il focolaio di Caposele si è sviluppato a scuola. I nuovi casi sono stati accertati grazie ai tamponi fatti sabato pomeriggio in occasione del drive-in, così come aveva chiesto il sindaco Lorenzo Melillo all'Asla. Il prossimo drive-in è stato fissato per il giorno 22, mercoledì sarà sottoposta a tampone la popolazione scolastica. Oltre ai positivi ci sono più di 100 persone in isolamento. La notizia positiva è che nessuno, tra grandi e bambini, ha sintomi che richiedono il ricovero in ospedale, come ci ha confermato il sindaco che, ricordiamo, fa parte dei contagiati. Positivi in doppia cifra anche ad Avellino, nel capoluogo si sono registrati 13 casi ed anche in città ci sono numerose famiglie in isolamento. Cinque positivi a Mercogliano e San Martino, Valle Caudine e quattro a Montoro, mentre sono in tutto 14 comuni compresi nel bollettino dell'Asla. Il covid non si arresta, anzi, proprio in questi giorni sta dando segnali preoccupanti per la velocità con cui si sta diffondendo. Attualmente ricoverati alla città ospedaliera sono 13, due si trovano in rianimazione. Applaziona